Se vi state domandando se Barbie è un film adatto ad ogni genere di pubblico, soprattutto ai bambini, la risposta è sì. Mi è piaciuto? Lo scopriamo durante questo video, quindi vi invito a rimanere e a seguire la mia recezione per quanto riguarda il film di Greta Gerwin. Partiamo col dire che la rappresentazione di Barbie Land mi è piaciuta tantissimo. Un mondo dominato da colori pastello nel quale le Barbie vivono tutti i giorni la giornata perfetta. Come vediamo nel trailer la Barbie di Margot Robbie scende dal piano superiore della casa entrando direttamente nella macchina come accadeva quando si giocava con le Barbie da bambini. Quindi vediamo appunto i diversi tipi di Barbie che vengono rappresentati, tra cui anche la Barbie con la televisione, la Barbie, insomma molte citazioni. Chi conosce le Barbie questa è una bella citazione perché ci si diverte anche a trovare appunto le diverse Barbie che sono state realizzate durante gli anni. Prima di entrare nel vivo del video parlando del messaggio che ha diviso moltissimo il pubblico e continuerà a farlo, volevo sottolineare la grande interpretazione di Margot Robbie, ma soprattutto quella di Ryan Gosling nei panni di Ken, un Ken spiaggia, un Ken succube di Barbie, un Ken che vive all'ombra di Barbie perché appunto nelle bambole Ken è un oggetto per Barbie, un gadget che è venuto dopo appunto la creazione della bambola più conosciuta. Quindi vediamo quel povero Ryan Gosling che cerca in tutti i modi di attirare l'attenzione di Barbie ma non riesce in nessun modo. Si vede come Gosling si sia divertito nel girare nel film nei panni di Ken perché si vede l'impegno e diciamo l'amore che ha messo nel film. Margot Robbie nei panni di Barbie è semplicemente perfetta, non mi sarei immaginato nessun'altra attrice al posto della Robbie perché fisicamente è una Barbie unica, semplicemente unica. Poi comunque le sue doti attoriali non si discutono quindi la loro coppia, il loro feeling sul grande schermo si è sentito tutto quanto. Quindi tanto di cappello a Margot Robbie e Ryan Gosling per la loro interpretazione. Ken e Barbie si muovono in questo mondo immaginario appunto una Barbie land realizzata con questi colori di pastello, con questi colori che spiccano moltissimo grazie ai quali molto probabilmente vedremo la scenografia del film nominata agli Oscar perché si vede l'impegno nei dettagli, le piccole citazioni anche ai gadget della linea di bambole della Mattel quindi è evidente l'amore che ci ha messo Greta Kerwin nella realizzazione della scenografia. Insieme a Ryan Gosling nei panni di Ken troviamo un altro Ken perché ogni uomo che appare nel film ha Barbie land, è un Ken differente, quindi principalmente vediamo il Ken di Ryan Gosling che è il Ken spiaggia e il Ken di Simo Liu. Ci sono diversi cameo nel film tra cui quello di John Cena nei panni del Ken sirena ma ci sono veramente veramente tante cose da scoprire nella pellicola. Molto interessante è come Ken e Barbie arrivano sulla terra da Barbie Land. La Barbie sente che qualcosa non va e comincia a vedere come vediamo anche nel trailer pensieri di morte, pensieri che nessuna delle altre Barbie ha perché c'è un motivo particolare per questa cosa. Quindi decide di andare sulla terra e trovare l'origine di quel problema e come ci si arriva è molto divertente perché Ken e Barbie si spostano attraverso determinate cose e determinati gadget che si potevano utilizzare quando si giocava con le Barbie ma ve lo lascerò scoprire nel film quindi poi tornate a commentarlo insieme. Quindi appena arrivano sulla terra Barbie e Ken capiscono che è completamente l'opposto perché mentre a Barbie Land il governo è completamente formato da diverse Barbie Barbie presidente, Barbie ministro e così via sulla terra è completamente governato da soli uomini. È un messaggio molto potenziato, molto esagerato da parte della Garewing perché non è effettivamente così ma Ken rimane esterrefatto da come si svolge la vita sulla terra e inizia a cercare di scoprire e capire come funziona questo patriarcato che si ha sulla terra dove viene considerato addirittura si eccita perché una signora lo ferma per chiedergli l'ora. Un messaggio quello della Garewing un po' troppo sottolineato, un po' troppo rafforzato al filmismo puro e crudo perché non considera affatto o quasi gli uomini anche se quegli uomini che vediamo al comando sono rappresentati come idioti vedi il Will Ferrell, il presidente della Mattel e tutti i suoi dirigenti l'intorno non riescono a cercare di capire come fermare e catturare Barbie per rispedirla a Barbie Land sono rappresentati appunto come delle macchiette, come dei buffi personaggi non dei veri e propri dirigenti. c'è anche una scena che però vi dirò nella parte spoiler nella quale viene rappresentato il patriarcato ma secondo me è un po' una presa in giro una caricatura di quello che si vorrebbe dire perché insomma difficile parlarne senza fare spoiler ecco la rappresentazione della regista è sicuramente troppo spinta troppo accentuato il messaggio che voleva mandare però effettivamente non dico quello che accade ma un monologo di America Ferrera che interpreta insomma un personaggio nel film fa riflettere e racchiude appieno quasi la descrizione di quello che è effettivamente poi il messaggio nella pellicola troppo esagerato potrebbe essere troppo marcato sicuramente però è evidente quanto ci si rispecchi soprattutto alcune donne con cui ho parlato in quello che dice America Ferrera quindi in quello che poi è il messaggio del film un film che verso il finale vuole dare il suo piccolo spazietto anche agli uomini anche a quel Ken messo ai margini da Barbie che tenta in qualche modo di prendersi i suoi spazi durante la pellicola è sicuramente una pellicola per tutti perché i bambini si divertiranno e quelli più giovani che magari non conoscono la Barbie perché in qualche modo non sono cresciuti nell'epoca del loro lancio cominceranno magari a saperne di più mentre chi è cresciuto con le Barbie e ci ha giocato sin da bambino amerà sia le citazioni alle Barbie ai film perché alcuni film sono stati citati nel film e soprattutto capirà benissimo il messaggio che vuole lanciare la pellicola quindi non vi fate spaventare dal titolo del film o da quello che potrebbe rappresentare perché non vi fate scoraggiare andate al cinema perché ne varrà la pena sicuramente è un film divertente è un film che può tranquillamente rappresentare molte delle situazioni attuali e se vi volete fare due risate comunque con i vostri figli con qualche cuginetta qualche amica qualche amico andate a vederlo perché è sicuramente un film che fa bene al cinema è un film evento perché vedere tutta la gente vestita di rosa che va a vedere il film in sala e riempie le sale fa sicuramente bene al cinema è un peccato che purtroppo non possiamo fare il nostro Barbie Nightmare perché il film di Christopher Nolan esce fra un mese e Offenheimer purtroppo non è in contemporanea come negli Stati Uniti perché molti negli Stati Uniti hanno visto i due film nella stessa giornata sta cambiandosi d'abito quindi da qui il Barbie Nightmare che è un peccato non poter aver realizzato qui da non in Italia ragazzi io voglio parlare un po' del finale e cercare di parlarne con voi e spiegarvi quello che ne penso e magari anche commentarlo insieme alla fine del video quindi vi ringrazio per il momento farò un po' di spoiler nel film parlando un po' più del dettaglio di alcune cose che mi sono piaciute quindi io vi ringrazio per avermi seguito fin qui partiamo con il finale della pellicola dove vediamo Margot Robbie che incontra questa donna già l'ha incontrato durante la fuga dal palazzo della Mattel e la donna si presenta come Ruth Handler la creatrice di Barbie Barbie perché è il nome della figlia Barbara Handler che vediamo in persona in un cameo nel film in una fermata dell'autobus se avete presente la pellicola c'è un momento in cui Margot Robbie guarda questa anziana signora e quella è la Barbara Handler la vera Barbie la figlia di Ruth al quale si è ispirato il nome della bambola insomma la signora cerca di parlare con Barbie e gli dice che cosa vuole veramente vuole diventare vuole tornare la sua vita a Barbie Land o vuole cercare di cambiare vita e viversi la vita reale però a una condizione ovvero che poi alla fine morirà quindi in una scena che ricorda moltissimo Pinocchio la donna trasforma la Barbie di Margot Robbie in appunto una donna vera e nella scena finale del film appunto la Margot Robbie si vede che entra in questo palazzo e va dal ginecologo per la prima volta nella sua vita perché come sappiamo le Barbie e i Ken non hanno i genitali quindi un pezzo divertentissimo in sala di sede generali si chiude la pellicola così quindi un messaggio comunque alla Pinocchio che prima però ha voluto essere intenso con un monologo da parte della signora che tra l'altro è interpretata dalla moglie di Danny DeVito ovvero Rea Perlman anche il Ken di Ryan Gosling ha la sua chiusura la sua conclusione in quanto durante il film appena lui arriva sulla terra vede che gli uomini sono eletti al potere sono gli uomini che comandano appunto la terra e su tutto la rappresentazione di uomini a cavallo come segno di potere le statue che vede in giro e lo gli fanno capire che nel modo sbagliato gli fanno capire che è il patriarcato a comandare sulla terra e quindi sono gli uomini ad avere il potere e non prendono appunto ordini dalle donne ferma un dirigente che esce da questo palazzo gigante e gli dice ma quindi qui c'è il patriarcato sono gli uomini che comandano e il dirigente lo guarda un po' esterrefatto perché lui è comunque vestito di rosa e giallo fluorescente col cappello da cowboy e lui dice sì ma non è così che funziona quindi sì il patriarcato allora un po' a mo' di complimento quindi Ken gli dice complimenti quindi il patriarcato siete voi che comandate lui il signore il dirigente un po' preso alla sprovvista e un po' per accontentarli ha detto sì ormai facciamo noi comandiamo noi il patriarcato in un modo come per dire non è così ma va bene così era un po' una presa in giro insomma del patriarcato come si intende rappresentato anche come detto da Will Farrell e i dirigenti della Mattel quando la Barbie arriva alla Mattel vediamo questi dirigenti uomini comandati da Will Farrell fuori tagli di schemi completamente e lei da Barbie vuole cercare di parlare con la presidente la ministra insomma dell'economia però sono tutti uomini e tutti vestiti di grigio poi c'è questo stacco tra Barbie Land e la Terra Vera soprattutto il centro Mattel che è tutto vestito di grigio tutto colorato di grigio con questi colori scuri a differenza di Barbie Land che è il loro pastello tutto acceso a sottolineare la differenza completamente agli antipodi dei due mondi il ruolo della donna sotto l'uomo è rappresentato anche dal personaggio di America Ferrera perché lei interpreta questa mamma alla quale vengono tarpate un po' le ali se vogliamo dire così perché lavora per la Mattel ma capiamo che ha grandi qualità artistiche disegnando appunto le diverse Barbie e questa connessione con la Barbie di Margot Robbie ed è per questo che lei ha questi pensieri negativi perché è un momento triste per il personaggio American Ferrera e in qualche modo si connette alla Barbie e lei quindi per quello va sulla terra un'America Ferrera che appunto rappresenta la donna come rappresenta la donna alla quale vengono tarpate le ali perché lavora per questi dirigenti uomini che non gli danno credito che non le danno importanza anche se lei ha tante qualità e tante idee tanto è vero che nel finale vediamo la scelta di Margot Robbie prima di parlare con l'anziana signora domanda e quindi come si conclude la storia di Barbie e Will Farr dice è naturale si sposa con Ken le Barbie li presenti tirano giù dei bug clamorosi e l'America Ferrera ha l'idea perché vuole inventare una Barbie normale non una Barbie in carriera una Barbie avvocato una Barbie presidente ma una Barbie normale che la presenti tutte le donne ecco è questo diciamo il messaggio del film perché non c'è bisogno di mettere in luce sempre quella Barbie particolare in carriera un mestiere particolare ma bisogna anche dare importanza alla Barbie normale la Barbie che pulisce casa la Barbie che si occupa dei bambini la Barbie che cucina quindi una Barbie normale e l'idea all'inizio viene bocciata perché non farà soldi perché non piace e invece poi quando capiscono che potrebbe fare tanti soldi viene promossa questa anche la chiusura del personaggio di America Ferrera insomma un film che sta facendo ha fatto e farà discutere perché il messaggio divide moltissimo a me è piaciuto e devo dire che non ha neanche infastidito la rappresentazione degli uomini un po' stupidotti alla Ken perché viene contestato il fatto che gli uomini sono rappresentati tutti come degli idioti io questo non lo penso sinceramente perché è un film che vuole raccontare la storia di Barbie quindi vuole sottolineare le differenze tra Barbie Land e il mondo reale e questo era il miglior modo per farlo quindi ragazzi mi sono dilungato anche troppo volevo cercare di essere breve ma devo dire che questo film mi è piaciuto parecchio quindi io vi rimando adesso la domanda mi è piaciuto il film fatemelo sapere con un commento e quindi vi invito a seguirci poi in live domani sera perché ne parleremo ed espanderemo l'argomento ancora di più quindi io vi ringrazio da Valerio Perroni e da Ciaccazioni vi ricordo di iscrivervi al canale in descrizione trovate tutti i link ai nostri canali social e iscrivete il nostro anale YouTube vi ringrazio ancora e buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti